Un grave gesto di inciviltà contro le nostre tradizioni. Questo è il commento del sindaco di Asco di Piceno, Marco Fioravanti, davanti all'atto vandalico che ha deturpato il presepe realizzato dai Vigili del Fuoco nei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele. I teppisti sono entrati in azione nella notte, armati di bombolette spray nere, hanno danneggiato le installazioni con degli scarabocchi di occhi, nasi e bocche. L'Arengo, già nella tarda mattinata, ha incaricato gli operai dell'impresa che cura la manutenzione dei giardini pubblici per cancellare le scritte. E grazie alla rapida ripulitura, le sagome della natività dei pastori e delle pecorelle posizionate nelle settimane scorse dai Vigili del Fuoco sono tornate bianche. Tanta rabbia è stata espressa però dal sindaco per il gesto di inciviltà. Nonostante i grandi sforzi fatti dalla nostra amministrazione in materia di decoro urbano, insieme a denti, associazioni e volontari del territorio, e ha scritto Fioravanti sui suoi canali social, c'è ancora chi compie atti così vili e deplorevoli, rovinando l'immagine della nostra città e andando a colpire anche le nostre tradizioni. Ma il primo cittadino a Scolano ha anche assicurato che con le telecamere presenti in zona verranno individuati presto i colpevoli.